bentornati a lampi di tesla stasera cominciamo con le buone notizie perché cominciamo con le consegne guardate un po questo camion cosa trasporta sono model y con cerchi da 19 quindi long range indovinati un po dove è stata scattata questa foto alla giga berlin avevo già detto che stavano uscendo dalla fabbrica delle long range oltre alle performance ma non solo per il nord europa arrivano anche in italia o almeno una conferma di un vin in italia di una long range prodotta a berlino in consegna entro fine trimestre quindi se aspettate la macchina a breve potrebbe arrivare o da shanghai o da berlino e questa è un'ottima notizia perché significa che berlino finalmente sta facendo crescere la produzione ottima ottima notizia giusto così per un piccolo appunto non vi preoccupate se la macchina arriva da una parte o dall'altra le macchine sono assolutamente identiche quindi aspettatela e quando arriva godetevela aspetto le foto è apertura super charger alle auto non tesla negli stati uniti ne avevamo già parlato ieri è apparsa una novità nell'app che poi è scomparsa dopo poco vi ricordo che negli stati uniti la porta proprio di ricarica che a tesla è diversa da quella che hanno tutte le altre auto e non esiste a oggi un adattatore c'è ha detto che ci sta lavorando questo magic connector però a oggi non esiste ancora però ieri è apparsa sull'app americana la possibilità di iscriversi a una membership per ricaricare esattamente come in europa solo che questa membership a differenza dell'europa dove costa 10 euro era data per 99 centesimi di dollaro il che è un po strano perché basta caricare un kilowattora e si rientra nell'investimento della membership quindi qualcosa che non torna e poi questa opzione è magicamente scomparsa dall'app ora io non credo sinceramente che sia stata una svista di qualcuno che ha cliccato per caso il tasto pubblica tesla è molto brava nel marketing io credo che tesla abbia voluto creare un po di hype e che a breve probabilmente tirerà fuori qualcosa dal cilindro dove dirà agli ai proprietari di altre auto elettriche che potranno finalmente caricare alla rete di ricarica tesla e che probabilmente troveranno già in loco questi magic connector proprio per adattare la presa di ricarica tesla alla ccs 1 che si usa negli stati uniti mossa davvero interessante cosa ne pensate voi è stato un caso o hanno fatto apposta ilon ha detto che entro fine anno tesla rivelerà la posizione della nuova gigafactory si parla di alcuni luoghi io rimango abbastanza convinto sull'indonesia ma è saltata fuori la voce abbastanza insistente del canada effettivamente ci sono stati dialoghi questa settimana tra il ministro dell'industria canadese e tesla io rimango dell'idea che una fabbrica di auto prettamente di auto in canada non avrebbe molto senso secondo me perché comunque già fremont e ancora in crescita austin e solo all'inizio avrà una crescita incredibile non so che senso potrebbe avere una fabbrica in canada però staremo a vedere potrebbe però avere molto senso invece una fabbrica di batterie in canada ecco questo probabilmente sì quindi una un luogo dove effettivamente andare a costruire un po come la giga nevada andare a costruire batterie 46 80 comunque vedremo ci sono stati questi colloqui conoscitivi poi sai comunque tesla potrebbe si decidere in base al luogo però dipende anche dalle condizioni economiche sono abbastanza importanti anche quelle qualche tempo fa tesla ha deciso che i nuovi ordini da metà aprile in poi se non vado errato non avrebbero ricevuto in dotazione con l'auto il caricatore portatile questo ha creato varie polemiche poi comunque andando a vedere anche i configuratori di altre auto è praticamente optional su tutte le auto comunque sia a parte questo tesla ha inviato una mail a chi sta per ritirare la macchina in questi giorni e che l'ha ordinata appunto dopo quella data quindi sono i primi ritiri adesso dove sta regalando tra virgolette un buono sconto casualmente del valore di 200 dollari che è esattamente il valore del caricatore portatile per acquistare o il caricatore portatile oppure il wall connector quindi la wall box di tesla trovo una manovra interessante secondo me tesla ma non è un segreto sta spingendo verso l'installazione di wall connector probabilmente per non so una questione di brand così anche chi ha più auto elettriche comunque al wall connector tesla non so non so che mossa possa essere comunque rimane il fatto che tesla deve un po migliorare secondo me la parte comunicazione ecco perché magari quando ha annunciato il fatto che non ci sarebbe stato più il caricatore portatile compreso poteva tranquillamente già dire che avrebbero rilasciato questo buono da 200 dollari magari ci hanno pensato solo adesso chi lo sa probabile avete presente bloomberg l'avete sentito sicuramente è un'agenzia giornalistica che si occupa soprattutto di borsa ecco è particolarmente grande famosa ha riportato alla notizia che il capo dell'ufficio legale tesla aveva lasciato la compagnia quindi uno si aspetta che ci sia un'attendibilità da una certa fonte effettivamente tesla tesla stessa con l'account twitter è andata a smentire questa notizia perché vi racconto questa storia proprio perché è importante davvero filtrare le notizie e capire quali sono effettivamente quelle attendibili e quelle che invece lasciano un po il tempo che trovano e noi coi lampi ci stiamo provando e ora per concludere passatemi una comunicazione che non riguarda prettamente tesla ma riguarda sempre le aziende di elon musk ma che potrebbe essere molto interessante per qualche ascoltatore dei lampi avete presente starlink il servizio internet satellitare proprio di spacex quali sono le peculiarità di questo servizio e che può funzionare dove c'è copertura praticamente ovunque anche in mezzo alla campagna sul cucuzzolo di una montagna praticamente ovunque e l'europa è ormai tutta coperta perché vi racconto questa cosa perché il prezzo di starlink è particolarmente elevato ovviamente non si rivolge a chi ha già fibra ottica senza problemi non è quello il target forse lo sarà in futuro con la diminuzione dei prezzi ma ci sono delle situazioni particolari dove non c'è soluzione quindi se avete già magari un servizio satellitare che un po zoppicante oppure proprio non avete internet perché non arriva in maniera decente o avete una linea particolarmente inaffidabile ecco qui che starlink potrebbe avere senso anche con i suoi prezzi l'abbonamento mensile rimane di 99 euro al mese ma lo vedo in diminuzione nei prossimi mesi come per esempio stanno facendo in francia dove è stato dimezzato a 50 euro ma perché ancora vi racconto questa storia perché molti magari sono bloccati dall'acquisto di starlink dal prezzo dell'hardware quindi della parabola di ricezione dei satelliti perché effettivamente ha un costo che varia in base allo stato tra i 600 e i 700 euro insomma non indifferente un costo una tantum che comunque ha una certa incidenza sull'acquisto ecco incredibilmente in italia e solo in italia si può acquistare spedizione compresa per 200 euro non so fino a quando sarà valida questa offerta quindi ci tenevo a dirvi che se siete interessati a starlink questo è assolutamente il momento per acquistarlo io ho guardato tutti i siti mondiali in cui è disponibile starlink e costa ovunque 700 euro circa in base allo stato solo in italia costa 200 euro quindi se siete lì per comprarlo e vi è sempre bloccato il costo dell'hardware acquistatelo senza pensarci due volte comunque guardate bene anche io ci ho guardato un po' oggi guardate bene anche come funzionano i vari abbonamenti perché eventualmente potete anche bloccare l'abbonamento e farlo ripartire poi successivamente comunque date un po' un'occhiata se può interessarvi io credo che a questo prezzo sia veramente un furto cioè lo stanno vendendo davvero sotto costo e secondo me lo stanno facendo perché starlink è ancora comunque un servizio sperimentale e come accennavo prima della francia dove stanno provando un nuovo tipo di abbonamento secondo me per l'italia vogliono aumentare il numero di parabole quindi per magari testare la rete quindi potrebbe essere un enorme vantaggio comprarlo a questo incredibile prezzo questo è tutto per oggi io vi ringrazio come sempre e ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao